A distanza di due anni e un giorno dal decreto che l'ha messa in risoluzione se ne va anche l'ultima insegna di un simbolo arettino di benessere e fiducia nel sistema bancario che difficilmente sarà sostituito. Uno degli ultimi baluardi della vecchia banca Etruria l'insegna con il nome ed il logo nella sede storica di Corso Italia sono stati rimossi. Molti gli aretini che sui social hanno sottolineato con foto e commenti cosa stava accadendo. Mentre presso la procura di Arezzo si stava decidendo uno dei passaggi chiave dell'inchiesta per bancarotta fraudolenta, l'ammissione che poi c'è stata, delle oltre 2000 parti civili. Ieri il compleanno del maledetto decreto salvabanche scrive ad esempio il consigliere comunale di Forza Italia Federico Scapecchi. Oggi se ne va l'ultimo baluardo visivo della fu gloriosa Banca Mutua Popolare a Retina, poi Banca dell'Etruria, poi ancora Banca dell'Etruria del Lazio e infine Banca Etruria. Chiunque dice ancora Scapecchi voglia bene ad Arezzo non può non sentire una stretta al cuore al vedere questa foto. Il processo di fusione con il colosso bergamasco Ubi Banca che ha rilevato quello che di buono era rimasto di Etruria sta per arrivare a compimento. La fusione sarà conclusa il prossimo 27 di novembre e così un pezzo di storia a retina nel bene e nel male farà parte definitivamente del passato.